Ivandinino, perché le nuvole? Le nuvole non sono da intendersi come un mero fenomeno atmosferico, ma in realtà sono i potenti, i burocrati, coloro i quali impediscono a noi cittadini, a noi popolo che stiamo sotto, di vedere cosa c'è oltre le nuvole, cioè il sole, l'azzurro, il cielo, la luna, le stelle. In altre parole, ci impediscono di vedere la verità, la realtà. Io sono partito da qui, dalla commedia di Aristofane e dal disco di Fabrizio De Andrè, per intendere che in Italia c'è troppo trasformismo e forse le riforme che vuole Renzi non le vedremo mai. È un libro giuridico quello che lei propone? Giuridico ma non solo. Si parte dalla storia delle commissioni bicamerali che sono tutte fallite dal 1985 in poi, la commissione Bozzi, la De Mitaiotti, per poi procedere alla Devolution, a Fisichella. Poi ci sono altre parti che riguardano la Thatcher, le liberalizzazioni inglesi, l'economia, la finanza, il solito dilemma di Keynes contro Smith o Friedman, cioè la scuola di Chicago, socialismo contro le forme più liberali del mercato. Per andare a un capitolo sull'Unione Europea e poi ci sono anche altri capitoli che riguardano la circolazione stradale, fonti di energia, un capitolo sull'Aquila e sulla mancata ricostruzione, per giungere all'unico soggetto che ha saputo autoriformarsi nel tempo, cioè la Chiesa, dal Concilio Vaticano II senza tralasciare poi gli orientamenti postconciliari. In una sorta di sommario sotto il titolo lei si chiede ma gli italiani le riforme le vogliono davvero? Ha trovato una risposta? La risposta francamente è molto difficile, a parole sì, le vogliono tutti, però poi in realtà quando andiamo a scavare è difficile trovare persone che vogliono realmente delle riforme. Se noi pensiamo che in Italia non è stato possibile neanche liberalizzare le licenze dei taxi, allora siamo in grande, in grave difficoltà. Quanto tempo è impiegato per scrivere questo libro che è composto, lo ricordiamo, da circa 300 pagine? Ci ho messo un paio di mesi, tuttavia c'è stata una grande e lunga ricerca iniziale che è durata anni e più ci sono tutti gli studi giuridici e economici di una vita. E indirizzato a chi? Secondo lei chi è il lettore medio che leggerà le nuvole? Il lettore medio è l'italiano e chiunque voglia farsi un'idea su eventuali proposte di riforma, a partire dalla Costituzione, a cascata per tutti gli altri argomenti. Ogni capitolo è un organo di uno stesso organismo che è tutto il libro.